Sono notevolmente peggiorate le condizioni delle strade di Casalpalocco. Alcuni tratti di Viale Gorgia di Leontini e Viale Alessandro Magno, le principali arterie del quartiere, sono diventate impercorribili e residenti sono costretti a fare lo slalom tra voragini e radici per raggiungere le proprie abitazioni. Alcune sono semplicemente impraticabili. Qualcuno evita di passare dove le buche sono più grandi e si percorrono altre strade. Servirebbe un intervento di manutenzione? Diciamo di sì. Ci sono dei tipi di macchine che neanche possono passare qua su questa strada. Potrebbe essere poi un problema non soltanto per i cittadini ma immagino anche un mezzo di soccorso qualora dovesse passare da queste strade? Esatto. O l'autobus. Non potrebbe difficoltà, cioè non potrebbe certamente passare alla massima velocità se ci fosse un'urgenza. Quindi sarebbe necessario un intervento? Direi di sì, anche perché sono del comune queste. E le capita di passare qui in macchina? Purtroppo abito qui da 45 anni per cui passo. Soprattutto questo pezzo è terribile e la maggior parte sono tutte dissestate. E' pericoloso? E' molto, però nessuno fa niente. E' un disagio avere queste strade così? E' una catastrofe, non un disagio, perché sono completamente dissestate. Tra l'altro, passandoci sopra con le ruote, se non si sta molto attenti, si rischia veramente di farsi del male o alla macchina o alla coppa dell'olio. Ed è un sacco di tempo che sono così, ma apparentemente non si riesce a trovare una soluzione. Sono così da anni, sono veramente al limite dell'impraticabilità, perché di fatto una strada del genere non è praticabile con la macchina normale. E purtroppo alcuni residenti che hanno le case che si affacciano proprio su queste strade non hanno alternative? Non ci sono alternative, tra cui noi che abbiamo la casa che si affaccia qui proprio. Tra l'altro hanno anche spostato la fermata dell'autobus perché non poteva più passarci. Nel senso che è troppo difficile per le macchine. Intanto si sentono dei colpi di coppe dell'olio, piuttosto che cose che... Finché non si farà male qualcuno. Quando si farà male qualcuno probabilmente interverranno. Nel 2021 l'Aggiunta Raggi aveva stanziato circa 7 milioni di euro per il rifacimento delle strade e la riqualificazione dell'anello ciclabile. Ma ad oggi è ancora tutto fermo.